ok eccomi a tutti in live buongiorno a tutti eccoci qua in live qui su gta 5 fm l'italiale stiamo qua col neopromosso tenente smith vedete qua i piastrini sul colletto del tenente dobbiamo fare delle cose un po di rp poi ci stanno i colloqui della polizia da fare vediamo che posso dare via questa qua poi 3 di questi e 10 di questi perfetto mi manca uno di questi qua perfetto a posto bene deve andare dall'avvocato quindi ci mettiamo in un adam nostra perfetto ips on e ad admin on adam 3 status status 1 funziona tutto perfetto convergete nella prima tac disponibile per rispondere al gabriella vi mando un agente dalla centrale no 24 tac 9 per il gabriella ripeto tac 9 10 10 4 convergete salve salve oddio salve buongiorno buongiorno ok perfetto perfetto andiamo ah ragazzi ragazzi ho alzato un po le qualità di gioco come potete vedere ma appunto per 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 berlin costo 20 min po tutto che pro ho beh lo è questo per hit Dobbiamo fare una cosa dall'avvocato Adam 518 E il resto è stato 2 In quanto devo fare delle commissioni Ok Perfetto Castro Avanti Siamo andati a Gabriella Ma a Gabriella già c'è una tassa Chiedi chi sono Perché se c'è il sergente Coleman Allora dovranno andare alla fliga città Ok chiedo No non c'era Coleman Va bene tornate in Adam 1 Allora Perfetto Avviste un collega dall'Atac 9 Che non deve venire più Vistevuto Vabbè in ogni caso Trovatevi in un punto E andate voi tra in Adam Andate all'avvocato a fare delle cose Coordinatore Avanti Ma credo forse il Bonson No No l'ultimo che ha scattato è un Gabriella Precedentemente è scattato una fliga città Dove io ho mandato delle persone Ora può essere che Ok Castro Ho capito che loro magari avevano fatto un fatto del punto E l'hanno riavviato Può essere Può essere Comunque io vedo una notifica del Bonson Molto molto recente Se vedete una notifica del Bonson io non la vedo Quindi andate pure voi tre Ok Convergiamo noi tre allora Posto Perfetta Così vede l'avvocato Buon pomeriggio Oh tenente Smith Buonasera Buonasera Tutto bene Lei? Tutto a posto Tutto a posto Non c'è male Perfetto Brando prende la coordinazione momentaneamente Precede? Eh precede bene Ecco ieri ho avuto la promozione Quindi Difatti io ho scritto sergente E infatti Sera la promozione Tenente Mi fa molto piacere Congratulazioni Perché se lo merita Grazie mille Se lo merita veramente E procedo Le posso fare fatture E se vogliamo con tanti diretti Ok perfetto Allora guardi Venga pure qui E la mania dell'agente Esperto Esperto coordinatore Sono uguali Giusto? No Uno è un rombo E l'altro una stellina Stellina coordinatore Rombo esperto 10-4 Perfetto Perfetto Abbiamoci le armi Intanto Abbiamo solo una In servizio Ok Eccoci qua Ok Sì la accompagno Prego Sì così Depositiamo direttamente In fondo cassa E poi quando i clienti Arrivano Consegno direttamente I vari assegni Prego Perfetto Quindi adesso da tenente Che cosa ha di Dopo vicecapitano Ah dopo c'è il vicecapitano Quindi dopo sarà Andrà ad affiancare Il capitano Morol Poi a breve Le auguro Come capitano Poi Speriamo Guarda La valigetta è qui Con tutti i soldi Ecco qua Un attimo Ok Perfetto La ringrazio Dove essere 4 milioni Giusto? Guardi Controllo Guardi Facciamo così Dove essere delle mazzette Fatte proprio 100 dollari Allora Ci vuole un po' Sì perfetto Ok perfetto Sono 4 milioni Sono Ok ottimo Sono a pacchi da 100 Giusto? Sì sì Ok Sì sì Sono corretti Sono corretti Perfetto Allora Le inserisco un attimo Di mettere la valigetta E arrivo subito Ci sono 40 mila mazzette Da 100 Sì no Esatto 40 mila mazzette Non si è un po' Di fare la valigetta Di fare la valigetta Di farli Di farli Sì Mi faccio pure io E' Sì Pensa un po' Ma che sia tenente Eh esatto Bene bene Vabbè dai Ciao Io opito con l'avvocato Ci vediamo alla centrale Da 143 Eh un attimo che è qua 143 È un petto arrivato 143 Allo qui sì Ciao Vabbè Vabbè Ecco qua Perfetto A posto Allora le auguro una buona giornata Tenente anche a lei L'accompagno Prego Mi saluti tanto Il capitano Moroll Che so che Non sarà molto spesso In città Eh no Purtroppo Non ci sarà Mi ha raccontato Sì Se non me lo saluti Comunque in ogni caso Sì se lo vedo Lo saluto Bene Tenente Smith Grazie ancora Veramente Gendinissima Le auguro una buona serata Buon lavoro A vederci Adam 618 10V Vediamo un po' quanta gente è arrivata. E' qua, ci sarà un po' di gente? Eh si, è qua di là. No, aspetta, ma perché mi scompaiono i documenti? Ehi! Ma dai! Collega! Collega! Collega, venga ad aiutare la sua collega, chiede. Ah! Ehi! Che c'è qua dentro? Aspetta, aiuto! Oddio! Non si preoccupa, non si preoccupa. Oddio, è così sadomasse. Guarda, io fuori il loro dentro, guarda. Ma io non ce l'ho. E la signoria si è bloccata di sopra. Oddio, che c'è. Ottimo eh, la gente, esca, la gente, esca. Esca la gente. Smitte, fai te, va. Iolina! Salve! Ma tiro giù io. Grazie, la ringrazio. Eh. Ecco qua. Grazie mille. Perfetto. Ma che ci fai qua? Eh, devo fare i colloqui, che ci faccio qua? Qua? Non è allora? Vengo noi! Ah, allora posso assistere a un colloquio. Che sta a fa' quella? Ma perché eri salita? Io la vero giù sopra ancora. Scenda, fai un po' di scavoli. Tessuto, tessuto. Ma no, sono giù. Ok, perfetto. Ora vero giù. Vabbè, arrivederci. La smettiamo? Sì, sì. Dai. Allora. Sì, grazie. Ma comunque ogni volta che faccio buffe di dentro... I miei sergenti dove stanno? Che bravo! Allora... Allora... Le faccio tutto il lavoro. Allora... Ah... Cambiamo sui documenti... Ah, dai, dai, dai. Ok, mi mostro i documenti. Eh... Sì... Ah, l'ho capito. No, l'ho capito. Non l'ho fatto, ma giusto. Uff! Non l'ho capito. Jack, qui... Eh, stiamo senza Adam. TAC 5.3. Segnalo degli spari nel pressi del 5.9.0. Adam 6, 10.55 al civico. 3.9.1. Triccio. POOOOO! che c'è il voto stiamo facendo la diretta non li veda, è caponese quello dove stanno i miei sargenti per fare i colloqui? boh, vogliamo un po' scriviamoli allora quello l'ho scritto, questo arriva e quest'altro non c'è non c'è non c'è non c'è questo vieni la parte di fuori ma sta avanti qua ah di chi sei e me fuori vieni la faccio di caprioli e mi la ritroviamo in fondo che cominciano tu la caprioli la caprioli oh 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 dove stanno tutti i gps tutti qua tutti là stanno che cazzo succede qua vado su brutto vado su brutto vado su brutto vado su brutto cazzo check caspro check davanti mi dai il tuo numero per favore 4908 1055 è concluso con successo venga mi impotere un attimo il suo 1020 lei che ha parlato per ultimo siamo al civico 380 grazie mille mi aspetti lì come lo aspetto ok signori buonasera buongiorno buonasera buonasera non solo eh mamma perfetto prego allora chi deve fare il colore qui o fuori vengo vengo sentitevi in fila indiana davanti a me davanti a me di qua in questa direzione qui non mi spostate non la trovo in quella direzione in quella direzione venga di qui signor Romero guarda tutti i tre di me ragazzi mamma mia come tagliare questa fila vabbè andiamo da dietro a tutto dai l'ultima ordinata dritta deve essere che è che è storta eh sì un po' più a sinistra un po' più a sinistra ok perfetto tutti dritti perfetto oh bella fila ordinata e le cominciamo bravi secondo eh hai arrestato le blatte? ti sto portando a 143 le blatte perfetto ottimo ti aspetto qui a 143 ci sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vieni stai arrivando ciao ciao perfetto signori allora adesso è 1 a 1 controlleremo mi perquisisco mi controllo se avete fatto il colloquio se l'avete passato se avete fatto il bando avete passato certo ok alzo le mani ecco aspetti che mi giro così faccio pure perfetto vada pure dentro come cognome ok ah kerat palline il massimo momento va si certo sull'applicativo sono Tarek no aspetta me lo sono guardato non lo vedo ok l'è arrivato? si perfetto posso procedere? un attio ha una bottiglietta d'acqua caro polo oh ma chi è che urla? vabbè ha una bottiglietta d'acqua signore no vara pure dentro al prossimo basso il documento documento prequisizione alzi le mani allora l'accetta e queste cose qua vada giù le lacrime in fondo le vara butta la terra ok vaia non è xavier no salve xavier è in ferie no lo metterla qui a terra oh non qui Alan non qui e poi sporcate tutto fate spazio fate spazio vado a raccogliere le cose signore eh non c'è documenti in tasca raccolgate su motoseglie le cose cose signore toglietevi tutti che se no non è documenti in tasca signore toglietevi ragazzo con i capelli meri si toglia check radio mi sentite avanti le ho messi qui le ho messi qui no no quelle le ho messi qui ecco avanti le ho messi qua perchè lei è venuta troppo veloce no perfetto castro scusami aveva un problema la radio mi sembrava che erano di altri scusami non c'è la domanda no un po buono riccardo fuori la cosa non 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 ecco ciao ciao è il documento erano documenti con la parola documenti con la parola no la parola giordano fidato un po' un po' ok vada salve agente salve alza le mani alza le mani la pistola vedo io 3 520 ufficiale del dot posto il documento fate perimetro in caso abbiate bisogno mandatemi il supporto mi raccomando le comunicazioni prima l'adam ha una macchina perfetto no modo ho paccheggiato la macchina diciamo che siamo a 100 metri noi continuiamo anche nel salve lo tengo non vada a metà se la ne ha una moto fammi sapere altrimenti se no mi non si è lontano io sono un agente non ho fatto proprio male per il momento non convergete nel caso poi di moto 10-4 no salve 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 smith salve salve il civile indica che la zona dell'hispania è la pica non so che io faccio i colloqui eh non so che io faccio i colloqui no infatti chi è che li fa scusi non posso scusare ma insicuro non è il reyes è scusato abbastanza bambino ma sono i colloqui stanno se glielo fate girare troppo quindi non vi conviene ah è vero perchè adesso lui ha ricevuto la promozione mi sono scusato scusate ma non ho reyes guarda 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 faccio alcune domandine allora lei ma ho rimasto giù qua perfetto il prossimo perchè mia madre e mio padre sono morto accidente voglio provenire voglio eh sì ciò caso poverini mi dispiace ecco qua eh lo so si mi dica ahahah è sempre stato il mio sogno aiutare le persone ok da nulla poi il prossimo salve diceva documento dai ringrazio salvo Antoni caro altrimenti arriva lei avanti eh è un obiettivo che mi sono messo avanti è arrivato papà non ti ingerzo a papà cacchiaia fa l'antana distrutto si mi dica si deve fare un colloquio ehm me lo devo togliere anche gli occhiali da sole sarebbero guarda me lo do io lo do poi se vengono insultate non vengono insultate non vengono insultate perché quella che non si preoccupi non ho sentito documento eh non ce l'ho agente faccia il documento con signore mi chiamo Flavio Pampo agente faccia il documento ok mi seguo andiamo a fare i documenti ecco qua mi cresco io arrivo altro che scusi posso andare pure il documento direttamente salvi agente no James Brown ecco lei non urlate non dovete urlare non dovete urlare non dovete urlare non dovete urlare guarda ma io ma ここ innativamente ah ok vedete la tua agente Wrong Perfetto, parla pure Prossimo Eh, non ho il documento Alberto's post Oh, grazie per il follow Gennaro Scarola Vado a fare il documento all'agente Come si chiama lei? No, come si, vabbè Agenti, man mano hai fatto i documenti A queste persone, rimandatele fuori Accompagnatele fuori Chi non hai documento può pure andare via Sì, hai sconti Scusi, agenti, ho fatto i documenti Aspetta, di fila si diventa Ok, vabbè Dentro Prossimo Si mette in fondo Documento C'è Sì, quello io Guardate a me Guardate, torniamo fuori Un momento Io l'ho passato, gente No Ce la può fare Mi l'ho passata a me prima Perciò Eh, immaginavo Preso? Sì Ok Perfetto, parla dentro Perfetto, parla dentro A me, a me, i documenti Posso? Ciao Ciao Posso fare Presizione Non capite le mani Documenti Adesso Adesso le patto il tablet Come si mette il dito Ok, perfetto Perfetto Perfetto, parla pure Perfetto, grazie Documento La vicini di più Perché se no Non le dà quello dietro Tanto Perfetto, parla dentro Prego Un momento Ecco Prego Parla dentro Poi Eccolo qua Prego Parla dentro Perfetto Perfetto Un momento Prego Parla dentro Buonasera Due Ah beh Ecco a lei Un attimo Ecco a lei No Eh, grazie Signor Peppe Eh, mi dite un documento Ecco a lei Perfetto, parla dentro Prossimo Eh, io non ho i documenti Allora, devi tolfarla Mi dite un documento Alzi le mani Le prequisisco Sì Sì Perfetto Parla a fare i documenti Da un signore Qui Dall'agente Collega Rifaccia il documento A questo signore Qui Ok, grazie per il follo Xe 274 3 Mi è venuto sul canale Sì Sì Ma sono un po' troppi Perché? Qua già Sono troppi Sono Vabbè E stiamo solo in due affarbi Arrivano in poleman Arrivano Guarda Eh Qua tra poco arriva banner Mi hai capito dove sono gli alti cornieri Ma perché mi fanno male gli occhi, porco? Un buon asset non c'era Un buon asset non c'era Un buon asset non c'era Ma solo Reyes Spagano No Ma chi li fa? Scolamore E tu stai con il nome? Eh ma arrivo Allora Ma che cosa sto sentendo? Lo spacca duro signori Dalla sua guarda vocale Che senso? Eh, sento voci La televisione Tante voci Ma le lasciate stare Io comunque Devo chiudere io Chiuderemo tra Top Ma no Arrivano Arrivano Ma vogliamo cominciare Che dobbiamo fare? Chiamo a Coleman Mettiamo ancora Coleman E vediamo un po' Un attimo Se arriva meno Ok Oh ma ti vuoi muover Puttore efficiente Stiamo aspettando a te Eh Stiamo aspettando a te Tutti Ciao Guardi Brava Reyes E poi ci smitte E poi bisogna Inizia colloquio Tu muoi Se non vieni tu Non cominciano qua Eh Perciò vola SZ Eh Bravo Ecco qua Risolto Aspettiamo Cari pinoia Che sergenti Quanto giorno viene o no? Servizio di segreteria telefonica Servizio di segreteria telefonica Vabbè Servizio di segreteria telefonica Quindi smitte che dobbiamo fare qua? Eh Adesso partiamo in sala briefing Vai Allora facciamo No come sala briefing? Poi facciamo in forza di nuovo No E facciamo attendere lì come sempre Prego signori Signori venite Non devi correre Sì Non è che chi arriva prima Ve l'ha fatto il primo Intanto vi peschiamo a caso Signori Sì sì Prego Prego Dato che è stretto Signori Con calma Passate qua Su sta fila qui Vi posizionate sulle sedie Sedetevi pure Piano 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 Sassa Sassa Prova Ok funziona Allora L'ultimo che ha fatto Sabbattuta Farà per ultimo Il colloquio Il cappello del ragazzo Fagli togliere Sì Prego agente venga qui Buonasera Buonasera Perfetto Sono tutti? Quelli fuori chi sono? Signori fuori che state facendo? Eh reclutati Perché stanno fuori lì? Buonasera Ma gente perché state qui fuori? Eccovi ecco Perché state qui fuori? Scusi lei è? Aiello stavo pulendo Perché stai diviso Aiello? Eh così puliscono io il pavimento Vuoi il richiamo per L'utilizzo scorretto Diciamo della divisa Ma come non c'è paù E ci prendo Non sta apriendo Quindi non mi pare che stia apriendo All'esterno Quindi vattene a metà la divisa normale Ok Allora Agente La recluta con chi è? La recluta con chi sta lei in pattuglia? Con nessuno Perfetto Allora vada a cercarsi un partner Prego buona giornata Sei Allora Facciamo una cosa Giochiamo a Dati Vediamo chi si deve scegliere il primo A scelta vai Ma è Dati? Ci sei? Dimmi qua ci sei Ci sono? Pronto? Uno Due Tre Vi chiedo scusa per questa dimostrazione Guarda là Non ci credo mai è possibile Cioè Come se? Vinto Vai c'è Bravo bravo Perfetto Mi presento Presentiamoci intanto Mi sentite? Perfetto Ok Sì Ok perfetto Allora Ok perfetto Allora Buonasera a tutti Buonasera Buondì Buonasera Cadetti Buonasera Possibili cadetti Buonasera Sono il tenente Sono il tenente Smith Ora voi perché Sare il tenente La smetti? Sare 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 Perfetto Ecco Ora Attendete Nesta sala briefing Poi Sostate il colloquio Diciamo Man mano che vi peschiamo A caso Quindi non è che Primo che si alza A fare il colloquio Vi pescheremo a caso Scelta nostra Farete un colloquio orale Dalla durata Dai 5 Di massimo In 10 minuti Ma qua dentro In un'altra stanza Mi scusi Sì In un ufficio Alla piano di sopra Quindi Mi raccomando Nessun Urling In questa stanza Se sussurre Basta Primo che sento urlare Scendo giù E lo butto fuori Chiaro? Chiaro Perfetto L'ultimo Giù in fondo Con i occhiali neri E il capellino nero Perfetto Mi sono da capellino Grazie Dimmi Sono stata buttata A fare Dal applicativo Dei colloqui No Sì Ma a parte Nemmeno ci potessi stare Lì dentro Aspettiamola Vedi che È là solamente Da coordinatore In su Capito Non ti senti Stai parlando Eh no Puoi farli con gli altri Con i sergenti Ma non è che ci può stare Lì dentro Ok Bene Perfetto Allora dai Scegliene uno Smetto Va bene E Prego Collega Scegliene per me Chi? Io? Sì sì Scegliene uno Il ragazzo Con i capelli marroncini In terza fila Con la fondina Scegliene con la fondina Prego Lei venga Andiamo Il prossimo Scelgo Un pirato Prego Ti seguo Ti seguo Sì Eto Eto Porque bisogna Mi s Roberto Eto Saco 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 venga più vicino qui sussurriamo si sentite così? si sentiamo ok lei è quindi Jordan fidato vediamo un po' su DB Jordan fidato Jordan fidato ecco qua allora è un po' qui al porto d'armi si alla patente C A e B perfetto e piedi la pulita perfetto allora si presenti innanzitutto sono Jordan fidato ho 24 anni e vengo da Torino ok va avanti come? si presenti si presenti prego cosa devo dire di altro? racconti qualcosa della sua vita oppure cosa l'ha spinta a entrare ok ok diciamo che io voglio diventare un poliziotto visto che mio padre era vice comandante della questura di Torino mia madre era era capo di una giilleria la portante di Torino ma lei purtroppo si è andata in una maniera molto brutta appunto per colpa dei dei criminali no? e quindi poi pure mio padre è morto per appunto una sparatoria contro dei criminali e mi piacerebbe intraprendere sempre dorme di mio padre visto che lui era molto fiero di me non vorrei deruderlo ora che non c'è più quindi per quello voglio voglio diventare un poliziotto sia per lui sia per me stesso e ovviamente per difendere tutti i cittadini bene ok due suoi aspetti positivi me li sai rincare? sì allora paziente e solare ok i due suoi aspetti negativi? gli aspetti negativi non mi vengono in mente aspetti negativi possono essere a volte faccio di testa mia e poi e poi poi credo non ce ne sono altre poi qui la mangiamo mica e a volte faccio le cose molto di fretta cioè mi piace farle fretturosamente a volte può essere sia positivo sia negativo bene quali secondo lei invece due aggettivi per descrivere un buon agente di polizia? un buon agente di polizia sicuramente appunto paziente e poi sicuro di sé ok ah già ma ha mai prestato servizio in un dipartimento di polizia? sì e dopo lo chiedevo aspetta ok dove? in un'altra città ok era il dipartimento grande? sì molto grande quanti agenti contava il dipartimento? 36 40 circa ah quindi secondo lei è grande? no beh per gli abitanti di quella città abbastanza ah ok va bene ecco collega mi ricordi quando era l'ultimo numero che ha contato lei? circa 200 perfetto noi siamo circa 200 in questo dipartimento di polizia ma forse anche di più perché l'ultima volta siamo cresciuti esatto quindi non conoscerà tutti i colleghi per le prime settimane di lavoro è logico non li conosco io dopo un mese esatto è molto grande il suo dipartimento molto dispersivo molti ufficiali molti agenti ok perfetto che grado aveva raggiunto nel suo vecchio dipartimento? allora per un mese credo anche di più ho fatto anche il comandante di quel dipartimento ok poi ci sono stato per 8 mesi 9 mesi capito di file e mi dica un po' che che qual è secondo lei l'arma più forte del dipartimento di polizia? l'arma più forte? si credo la carrabina o fucile d'assalto pure l'arma forte del dipartimento è per forza un'arma da fuoco no 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 è avere la legge a suo favore perché la legge a suo favore in che senso? nel senso che noi agenti dobbiamo appunto farla rispettare e soprattutto come detto abbiamo dalla nostra parte perché quando per esempio facciamo un esempio così arrestiamo anche per esempio una persona lui anche lui ha legge dalla sua parte ma in modo negativo quindi ha il codice penale dalla sua parte ecco si è in carcere e noi abbiamo facciamo la legge dalla nostra parte capito collega una domanda ma sono curiosa come mai questo ragazzo da comandante possiamo dire voglia tornare un po' alle origini cioè da quanto da quanto è che sei in città questa città sì una una settimana e mezzo ok e come mai questo cambiamento perché l'altra città ho avuto problemi con poteri alti e mi sono andato ok ah come rispondo anche alla domanda di prima voglio tornare ai metto lei alle origini alle origini sì per anche migliorare me stesso ok perché posso dare sempre di più comunque avendo fatto esperienza perché io adesso ho controllato il suo bando ha fatto circa dieci mesi di sì in pattuglia e non sono pochi quindi devo dire che lei dovrebbe avere una buona preparazione quindi se io dovessi fare delle domande così a tappo spero credo mi dovrebbe rispondere ok ok posso? prego prego vada pure cos'è un'arma letale un'arma non letale e quando si usano allora un'arma non letale può essere il teser il manganello ne si usano per fermare un soggetto senza usare armi letali e poi invece le armi letali sono per esempio le pistole che assalto e servono quando per esempio c'è una rapina in corso oppure i soggetti dall'altra parte cominciano ad aprire il fuoco ok c'è un momento in cui noi non usiamo né armi letali né armi non letali si ok mi puoi fare questo esempio per esempio quando fermiamo quando facciamo un controllo tipo mi scusi quando per esempio facciamo un controllo che ne so in pattuglia fermiamo un veicolo non dobbiamo per forza usare armi non letali e neanche letali se io ti faccio un esempio se io e tu siamo ti do del tuo perché siamo più o meno la stessa età cioè sei più piccolino di me siamo in pattuglia insieme ok a un certo punto ti dico scendi scendi e sparami a quel civile tu lo fai che grado è lei se posso chiedere io sono un semplice agente però facciamo mettiamo il caso che sono di un grado molto superiore lei lo fa mettiamo il caso che io sono un sergente ok ok io le do questo ordine lei lo fa? sinceramente vorrei sapere i motivi prima di compiere questo gesto non è che lei mi dice non c'è un motivo io io scendo dalla macchina e ti dico scendi no sinceramente no ok tu dai come si chiama in questo caso questa cosa cos'è? no allora mettiamo caso ti dico sono un coordinatore e ti dico vai in pattuglia ok ok tu in questo caso che fai? vado vado in pattuglia e chiedo se può venire qualcun altro con me di grado più alto perché io credo che recluta non possa andare da solo vabbè recluta non ci andrai mai da solo però vabbè andrei sempre con un agente in su esatto non potete mai andare in due reclute quindi comunque niente no quello che ti volevo chiedere se era che tipo di ordine ci sono due tipi di ordine il primo che è quello che mi hai disposto che non lo faresti e il secondo è invece quello che appunto lo faresti se non non ci arrivi vabbè te lo dico io si chiamano ordine illegittimo e ordine legittimo ok ok mi adesso hai capito cosa sono? sì ok mi li esponi in molto in generale anche se comunque con gli esempi diciamo ci sei arrivato ok per esempio quando per esempio un poliziotto esegue un ordine appunto illegittimo dal del suo superiore diciamo che rispondere saranno entrambi non soltanto quello che ha compiuto il gesto invece quello legittimo quando è come si dice quando un superiore appunto ha la competenza come si dice di di emetterlo appunto tipo io che sono reggut a un sergente mi dice di fare questa cosa io la faccio ok vabbè quindi il primo caso non è eseguibile va contro la legge nel secondo caso invece è eseguibile va con la legge ne risponde sempre la legge ok ok perfetto il 10 code lo conosci? il 10 code il 10 code il codice 10 ho detto molto della terra cioè lo avevi nel dipartimento si che codici radio usavate? ah si si 10 0 10 10 10 4 10 5 esatto quali sono i codici i codici e i significati tutti si quindi li riconosce tutti non mi ricordo allora 10 4 affermativo 10 0 è quando una gente ha un problema di mente fa puff dalla città 10 5 negativo 10 100 10 99 mi pare rapina 10 80 in seguimento 10 55 quando si esce dalla pattuglia poi 10 10 50 mi pare quando si fa quando si accosta un veicolo e quindi si fa un fermo poi beh ha dei 10 code un pochino cioè leggermente diversi da quelli nostri eh quelli che usavo nella vecchia città ok ok va bene assolutamente tipo ah 10 20 poi la posizione ok questo è uguale ok no poi sai cos'è un 10 99 eh mi pare o rapina o agenda terra la prima la prima ok e che manovra conosce per fermare un soggetto durante un inseguimento manovra pit e manovra box la manovra pit si la manovra pit viene usata quando viene usata intanto non in centro città dove è possibile ferire altri cittadini che non sono beh ferire altri cittadini e si fa a una velocità non troppo alta e bisogna chiederlo prima a un grado più alto se si può fare e serve per spintonare il veicolo e provare a fermarlo invece la manovra box serve per circondare il veicolo appunto che sta scappando si e bloccarlo mettendo più pattuglie ai lati del veicolo e riuscire a fermarlo sempre lo stesso io prima bisogna chiederlo a un grado più a un grado superiore ok e bene 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 e mi rispone questa domanda lei sta facendo una gara automobilistica ok ok ecco se è il traguardo ma lo vede in lontananza supera il secondo secondo che posizione arriva lei secondo giusto e ripeto dici volte bianco 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 cosa beve la mucca acqua bene e collega altre domande lei no a un acquario dove ci sono circa dieci pesci ce la puoi fare cinque dei quali affogano i pesci non affogano ok perfetto collega nient'altro no per me ok puoi andare buona giornata sarà scendere 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 da solo mi chiamano pronto scendere da solo si si ce la fa scendere da solo 50 minuti credo di si ah anche adesso l'ho dovuta scendere fuori pensavo che se lo avevo avessi fatto grazie mille arrivederci devo aspettare giù o che tu fare si si la strada la conosce vabbè ma intanto l'accompagniamo aspetto sempre la salita no no può andare ecco via la contatteremo noi se hai avuto positivo allora giù c'è da escare può andare arrivederci arrivederci come è andato secondo te si non è andato ma è andato positivo si anche perché avendo fatto circa 10 mesi in polizia non dovrebbe essere tanto cioè scarso almeno credo facciamo l'accademia a suo giro quindi facciamo l'accademia si si sto giro si la facciamo ah ecco d'angelo mi ha detto quando è che la facciamo eh quindi ti colloqui lo facciamo quindi o domani sera ok ciao come stanno sti capelli ci stanno bene meglio di quelli ci stanno ci stanno salve 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 mi avete riconosciuto certo ti ho riconosciuto subito smith dimmi ma l'avete scelti tutti i pelati apposta perché sotto c'è l'ultima fila sotto c'è l'ultima fila che sono tutti pelati non lo so non lo so non lo so no io nemmeno io ora li vado a guardare se vuoi fare un colloquio te ne porto uno apposta adesso stiamo scendendo a scenderci il prossimo stiamo scendendo tranquillo eh vabbè ma dove sta ce lo scelgo io dai ma come ce lo scelgo io andiamo giù allora vieni ce lo scelgo io uno che può fare per te addirittura ahah ma non c'è manco una donna si una ce n'è ma non c'è che se ne pesarei essa allora te lo scelgo io lui chi? vieni qua sei prescinto vabbè salve smith salve salve ma no ma so vero buona fortuna fratello prego prego buona fortuna no già lo scelgo venga venga con noi lui è il più simpatico del gruppo grazie ragazzi davvero si dice che ho fatto uno ho fatto due ah perfetto no 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 ne facciamo queste gap no che cosa hai fatto ne ho fatto due signorina ne faccio tre quante ah perfetto è della della curva sud smith oh mamma mia ne abbiamo già abbastanza della curva sud ma perché cosa vuoi dire sul sud c'è un amico mio dice dara portare barche no no al briefing avevamo la curva sud no si attenava ogni uno di abbiamo il briefing c'è la curva sud che sembra più animata di non so che cosa bene bene si metta in mezzo ai tavoli in mezzo sì sì in mezzo in mezzo così possiamo sussurrare non urliamo le urlare no no si metta in mezzo e sussurriamo che siamo vicini ora perfetto ci sente certo sento perfetto ok prego si presenti il suo nome e cognome qual è salve a tutti io sono Antonio Pampo fine si si presenti parli un po' di lei allora io vengo da una famiglia per bene i miei cittadini sono morti a seguito di un incidente però comunque ho passato la maggior parte della mia vita con Clara Pampo mia sorella e il mio fratello Flavio che è disurto mia sorella non fai bandi? non hai fatto il bandi? mia sorella no è molto occupata con il suo lavoro allora potevamo chiamare anche mio fratello ecco la curva sud è arrivata vuoi chiamare anche mio fratello? no 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 facciamo prima lei sono stato molte volte deriso comunque dai miei amici perché? perché? cosa è che non va? magari è è? è simpatico in quel senso? mi chiamano clown perché? me la faccio ma ma che cosa che non va la sua faccia io non capisco ma non capisco sincero va bene allora niente non saprei perché ridere? diverte il colloquio? ah no non sto ridendo ah bene ti presenti meglio ancora vai ti finisca diciamo che non ho altro da dire più che altro ho scritto tutto ok hai esperienze in polizia? certamente ho lavorato come poliziotto prego mi dica allora dove hai lavorato? ho lavorato in italia ho fatto un agente per un po' di tempo però più che altro diciamo niente di eclatante però poi diciamo a seguito di una discussione ho avuto con dei malviventi lì e sono dovuto andare via ma infatti sono speso dal lavoro proprio per questa cosa e per evitare diciamo delle introverse sul mio corpo perfetto e in che grado ha raggiunto lei all'interno in quel dipartimento della sua esperienza diciamo qual è il grado massimo? sono arrivato ad agente agente che comunque non ci è andato oltre sì ok e che ambizioni hai in fronte di questo dipartimento? a cosa ambisce? io lei ha parlato di gradi? no in generale cosa ambisce nel dipartimento? io non ambisco a nessun grado nel nel cosa stavo dicendo? né nel dipartimento né al di fuori più che altro di aiutare solamente i cittadini bene perfetto mi dica due suoi aspetti positivi aspetti in che senso? eh suoi due aspetti positivi ah i miei aspetti positivi io io diciamo ero molto male a mio agio con allora ho sentito uno sparo sì ehm non ci faccia caso beh vado sul banale tra virgolette diciamo me la capo con le armi se possiamo dire così però a livello caratterialmente diciamo tranquillizzo bene le persone ad esempio ho ho trattato molti casi tra virgolette di tentato suicidio e sono sempre riuscito a non farli lanciare sotto e diciamo non so nient'altro ok due suoi aspetti negativi invece? che non ho tanta pazienza e poi? e che beh diciamo dopo di dire non ho tanta pazienza non ho nient'altro perché comunque non mi dà quasi fastidio nudo va bene secondo le quale quali sono due aggettivi che descrivano l'agente perfetto l'agente di polizia perfetto non credo che ci siano due aggettivi che rappresentano l'agente perfetto ognuno è perfetto a modo suo uoi Franci va bene prego colleghi mi faccio fare qualche domanda a voi io mi devo un attimo mutolire arrivo subito io quante esperienze ha fatto in polizia quanti mesi è stato in servizio allora sono stato per allora dai a 18 anni mi sono arruolato per i militari sempre in Italia e sono stato un anno lì militare cosa? cosa? cosa ha fatto esercito? si si esercito esercito ah capisco perché io ho fatto marina ah ok ok però diciamo lì sono stato un anno poi comunque la situazione era molto ferga nel senso che i superiori erano troppo duri però in realtà è tutto molto diverso nel senso che non si sanno approcciare con diciamo noi di basso grado e quindi da lì ho dato le dimissioni capisco dopo quanto? però ho dovuto fare altri tre mesi allora dopo saranno stati due anni ah dopo due anni ha lasciato l'esercito ok e quanto tempo è stato in polizia invece? allora in polizia sono entrato più o meno sei mesi dopo e dopo sei mesi ho dovuto lasciare come ho detto anche ultimo ok ok capisco quindi diciamo ha una certa esperienza si reputa una persona abbastanza pronta e decisa ok quindi se io le dovessi fare qualche domandina così mi potrebbe rispondere cioè mi saprebbe rispondere sul discorso polizia ci proviamo ok innanzitutto quanto era grande il dipartimento in che senso quanti cioè era abbastanza grande il dipartimento perfetto non so dirlo sinceramente no ok non so dirlo più o meno non sa quanti agenti potesse contare eh no sono sincero no ok perché qui appunto siamo un dipartimento molto grande le dico soltanto che fino a tempo fa eravamo 200 però adesso siamo cresciuti ancora di più quindi non conoscerà mai tutti giustamente riusciamo riusciamo a ricoprire una vasta area una vasta area abbastanza paleto cerizzi siamo abbastanza vasti capisco allora quindi mi sa dire che cos'è uno stato d'arresto allora vabbè uno stato d'arresto è quando diciamo spedzi la persona in stato d'arresto adesso se mi fa qualche domanda più specifica è meglio perché se la devo rispondere così in due piedi e formare la frase non mi dia io voglio sapere che cos'è che perdi con lo stato d'arresto quello lo specifico non è molto generico alla fine no non lo so dire non mi sa dire è un ufficio normale ti dico in particolare che è la perdita dei diritti ok ok si cosa citiamo quando arrestiamo una persona non ho capito cosa citiamo quando arrestiamo una persona ok lo sai citare si ok me lo puoi citare certo lei ha il diritto di rimanere in incidenza qualsiasi cosa direi farà potrà essere usato da controdizione in tribunale ha il diritto di un avvocato qualora non potesse permettersene uno ne sarà fornito all'ufficio ha compreso i diritti perfetto se io dico di no come si comporta lo devo ripetere fino a tre volte dopo di che la quarta volta oppure la terza o la quarta o la terza comunque meglio quattro comunque per sicurezza diciamo di base diciamo il soggetto dovrebbe saperlo nel senso dovrebbe averlo capito ok dovrebbe averlo compreso ok sargente no sargente guardia sì quindi perché arrestiamo una persona cioè molto generico molto spiccio vabbè ci possono essere diverse cose nel senso può essere colto in fraganza di teatro nel senso una rapina oppure un amicidio eccetera oppure eseguendo un'indagine ok e poi ovviamente dipende anche dalle motivazioni se tipo io sto inseguendo una persona cioè sono in pattuglia con un collega o con lei ok ok e questa persona non si ferma ok ok nel caso in cui cioè riusciamo a fermarla questa persona che cosa possiamo fare cioè ci sono due specifiche manovre per fare fermare il soggetto ah per riuscire a fermarlo ci sono due manovre la manovra pizza e la manovra box ok devo spiegare cosa sono se riesci in due paroline sì vabbè la manovra box è quando ci sono due pattugge quindi in questo caso in un inseguimento si chiama sempre la pattuglia di supporto quindi una pattuglia va avanti una pattuglia va dietro al veicolo che sta scappando ok noi siamo tre però vabbè ah eh vabbè e mentre la manovra pit è quando praticamente fuori dalla città comunque preferibilmente diciamo in una strada con meno con meno persone possibili in giro si esegue la manovra pit e sarebbe un urto del nostro veicolo della nostra diciamo la parte del paraurto della volante davanti no si poggia il posteriore del veicolo grazie per il follow chiedito official mi è venuto sul canale grazie per fare queste manovre diciamo l'inseguimento come come lo possiamo chiamare anche se è un codice radio è il 1080 ok invece quando fermiamo il soggetto 1055 va perfetto e quando fermiamo il soggetto che tipo di armi usiamo arma letale o arma non letale arma non letale teaser ok vabbè in vabbè dipende diciamo dai casi ovviamente il soggetto è mascherato credo che sia preferibile preferibilmente letale visto che comunque viene da un paese che è l'italia diciamo qui è venuto che sa più o meno qualcosina sull'america giusto ok tipo quanti stati ci sono si un po' mi sono spaventato Kino questo non lo so dire ok mi scusi lei non sa quanti stati ci sono in america non so io no non ve lo so dire sinceramente preferisco quanti stati ci sono sulla bandiera dell'america 6 si 6 celline sulla bandiera 50 50 quanti stati sono in america 50 eh ma dai ogni stradina della bandiera determina uno stato ovviamente lo stato unione degli stati gli stati uniti ma io fai le foto filmando ti vuol dire come sto facendo una guardia di gruppo e mi hanno detto che siccome sono stato rimanato avevo c'è bianca era te mi trovo non è molto bravo sulla geografia ma come lei si è trasferito qui o domani non sa nemmeno in che stato ci troviamo magari torna ti controllo eh se vedi di nuovo io so se vedi che rimanano l'intero così ti metti in attesa sarebbe stato un po' strano sai vado a vivere in in quale stato non so l'alasca tranquillo sarebbe un po' strano comunque per me lei come se la cava la guida me la cavo io a sparare me la cavo è della curva sud ma mia si va bene puoi andare posso si può scendere se non c'è l'uscita rivederci buona giornata ma come ne si avranno i risultati eh nella stanza ha il tuo colloqui c'è nella stanza la stanza avanti si verrà pubblicato il suo colloqui va bene buona giornata rivederci a rivedere pronto pronto smith sono balta ciao dimmi senti noi ieri abbiamo sequestrato la calipro 50 avevamo chiamata voi ma non è intervenuto nessuno quindi poi alla fine è difficile quando la chiamata a centralino che intervengano puntualmente ma l'ho sequestrata ce l'abbiamo noi si si poi quando vuoi fare il trasporto ci occupiamo del trasporto tra il municipio alla centrale polizia con tutto perfetto va bene a posto ciao ciao buon lavoro com'era sono te positivo maia la pimenti in caso di la pimenti anche anche in quel caso maia maia ehi ci sono è positivo ehm ehm sono ancora un pochino molto incerta però cioè vabbè si non è andato male non è andato male dai no non è andato male non c'è una cosa mi ha saputo rispondere a domande come la vanovia pit e la manovra box si ci sta quando c'è troppo pericolo vabbè io devo andare a questa possibilità a me dà fastidio una cosa che quando io chiedo che cosa è rossato d'arresto non mi sanno dire che è una perdita dei diritti cazzo non è una perdita della libertà no è una perdita dei diritti ciao smith paini ciao smith non ho dovuto trovarti ho paura ok vuoi sapere come ho fatto a trovarti attraverso la live cosa scusami attraverso la live no adesso è un metagamer aspetta comunque ti voglio dire una cosa smith adesso andiamo a giocare al prossimo dove sta Maya cosa vuoi paini posso venire pure io si che è il pubblico tutti qua stiamo ormai beh e volevo fare anche un colloquio sono abilitata per il colloquio eh scegliere il prossimo oh mi sento molto più confident per ora eh mi sento più confident che cosa nel senso che sono i miei terzi colloqui che faccio ormai ormai sono troppo brava troppo esperta già ma io non avrei pensato di salire di grado eh non ce ne sono stata per ora ma ci spererei ma chi è il prossimo posso fare il mattino posso fare io signori premiamoci è lui è lui che c'ho io a chi posso chi c'ho gli occhi rossi come c'ho gli occhi rossi viola oh dio viola no oddio eh sono lente a contatto signori mi prego 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 grazie no andiamo la camicia senape come io fibio nomi a persone lei sarà la camicia senape 10-4 signorina ecco vedi già sai cosa si rabbia è già un ottimo passo guarda tanta gente che c'è bene visto che mi ha risposto così sarò molto più ispirata vado se mi ha vincolato l'ufficio mi incazzo ok coleman non si va a far niente tu eh chi? il collega qui eh bene puoi far mettere a quei tre rincoglioni di sbattere i buoni vicino alla porta per piacere se il diritto è maggiore fatti rispettare coleman vieni devi andare all'asilo bene dai tu ti impattuglia su tu ti impattuglia allora vieni ha rotto la schiavonia goffredo goffredo e paini spiego in mezzo ai tavoli venga scusi c'era un po' mi chiede di far la spesa vicini vicini un po' di più dai faccia io faccia io mi allungo aspetti che mi allungo ok sussurriamo mi raccomando qua dentro ti do una bellissima carne cotta grazie si sarò sabicini ah si si assolutamente e non urli dobbiamo sussurrare non sto sussurando perfetto come si chiama il suo nome e cognome kerat pallino signore che cosa? kerat con la k di k e pallino ok come mai hai deciso di entrare in questo dipartimento? per vari motivi perché mio nonno ai tempi mi ha molto spinto a diciamo i dollari i dollari si vedo che lei utilizza molto il dollaro nel suo nome anche ah no quella lì diciamo una figliazione un poco particolare non so non so se capisce una figliazione si si so che te signami tu te si in 3-4 così ah qua sono anche dei miei colleghi qua ma non so ma dice dentro il dipartimento di polizia no no in vari bandi ah mi sono altre gente mi sembrano sti su dollaro ma proprio con questa? non lo so non lo so adesso vedo saranno altre diciamo altre altre cose di strano che ci siano uguale alla mia no comunque sì il dollaro è un modo alternativo per comunicare la S si dicevo anche perché mio nonno mi ha spinto molto sulla carriera militare anche perché diciamo mi piace la disciplina e mi interesserebbe molto provare la carriera diciamo da polizia hai esperienze lavorative? eh sì dove? ah le devo dire in qualità? sì allora su weird city sono stato sergente dove? weird city weird di strano city poi sono stato su italian academy ufficiale poi sono entrato in polizia su vanquist per due settimane poi cioè mi sono licenziato perché non mi piaceva molto il sistema che usavano e poi sono stato su poseidon quasi sono quasi arrivato a sergente poi diciamo c'è stata il grande blackout perfetto ok ora come mai è qui? qui sulla città come è qui da noi? ah boh mi piaceva molto la città mi piace l'accoglienza ed è anche bella spaziosa come città ci sono molte persone di diverse carri ma cosa ambisce in questo dipartimento nuovo? diciamo innanzitutto a capire quali sono le mie capacità in situazioni in cui non conosco nessuno in cui non ho amicizie trovare magari dei buoni amici conoscere nuove persone vuole salire di grado? aiutare eh? vuole salire di grado? ma non per forza non per forza tutto viene con la calma e la disciplina viene ripagata perfetto diceva mio nonno l'importante è che lei non si faccia influenzare della curva sud perfetto ah perfetto lo spero comunque va bene mi parli diciamo mi dica due suoi aspetti positivi e due suoi aspetti negativi ah come dicevo un mio aspetto positivo ma dici in generale o in ambito in generale ah in generale sono molto paziente e ho sangue fredda nel senso che non mi scaldo subito e mi ritengono sono molto responsabile e genuina nel senso che aiuto il prossimo senza troppe pretese e invece due lati negativi diciamo a volte quelle poche volte in cui diciamo mi viene diciamo mi surriscaldo ecco diciamo mi scaldo anche troppo forse ah si scalda lei? come il sole? no ho detto quelle poche volte quelle poche volte insieme anche vado su di giri tendo ad esagerare a volte ma non troppo non alzi troppo le mani agitato si si mi scudo la vedo agitato lo vedo no no è peso? no 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 sono abituato ai poligoni di tiro che alzo le mani ah perfetto lei come se la cava a sparare? a sparare se posso darmi un voto da 0 a 10 do quasi un 10 perfetto e a guidare? a guidare do un 9 ok guida pulita senza troppe pretese perfetto qual è la differenza tra armi letali e non letali e quali sono quelle letali che i dipartimenti di polizia solitamente usano? heavy pistol ah vedi che è andata la differenza ah sì la differenza è che ci sono le armi letali sono le armi come le pistole le carabine i fucili d'assalto che periscono diciamo in modo letale le persone invece le armi non letali sono le armi come i taser manganelli e disper no non mi ricordo come si chiama secondo lei qual è l'arma più forte del dipartimento di polizia? assolutamente l'arma un'arma d'assalto l'M4 d'assalto secondo lei per forza un'arma da fuoco l'arma più forte del dipartimento? beh no potrebbe essere anche il taser buona come arma perché diciamo nel raggio breve è molto efficace il taser quindi anche il taser è una buona ha un falso buon sicuro e se dicessi la legge come? secondo lei se dicessi la penna se dicessi la penna secondo lei la penna potrebbe essere la più forte del dipartimento guardi quella penna che lei ha alla sua sinistra questa? si certo nel corpo a corpo potrebbe resistare alla sua sinistra questa esatto secondo lei potrebbe potrebbe risultare letale oh scusi scusi potrebbe risultare letale in un combattimento corpo a corpo ma potrebbe anche dare molti aspetti diciamo fuori dal combattimento dare molti aspetti letali fuori dal combattimento cioè? cioè nel campo giudiziario e cosa mi scusi stia fermo sei troppo agitato mi fermo mi fermo si basta basta fare così stia calmo eh sì mi scusi mi scusi hai ragione perfetto allora bene bene aiuto adesso inizio a salire io sul tavolo allora conosce gli insegumenti statali no? certo che manovra che manovra conosce per fermare una manovra scappa manovra pit la manovra m la manovra box e la manovra t non so se si chiama manovra t in questa città Sente? Sì, sì, vai avanti, spieghi Ah, spieghi La manovra pit è in pratica Una manovra che va eseguita Non nel traffico urbano Perché se ci sono civili Cioè, se ci sono dei civili Potrebbero La volante potrebbe arriccare danni Diciamo, ai cittadini E va effettuata In autostrada Su alcune velocità Che non devono essere troppo elevate Sennò potrebbe risultare fatale Come manovra La manovra box Invece viene effettuata Da quattro volanti Normalmente In cui si va a bloccare L'autovettura del sospetto Bloccandola in cosiddetto box In pratica una macchina davanti Alla volante Cioè, una macchina davanti al sospetto Una dietro E due a lato E così viene effettuata la manovra box La manovra che io ho chiamato T Che non so se si chiama T Anche questa città E in pratica Quando si va a colpire Il lato posteriore dell'auto Per far sbandare Il sospetto E anche quella non va effettuata In traffico urbano E invece la manovra M È più o meno una box Solo che viene effettuata Da davanti e da dietro Colleghe Colleghe Sì? Avete qualche domanda da fare? Io sì Prego, prego Dica to Allora Oddio Sparita Mi sento? Sì, sì La sento Ok Se lei è stato in qualche dipartimento Ok Come lei ha detto Sì Ma la differenza tra il Shockfire E un 10-10 Sa le due differenze Cosa vogliono significare? No Nel dipertimento in cui sono stato io Non abbiamo mai usato la parola Shockfire Ma veniva a essere usato il 10-80 Il 10-10 E... Cosa vuol dire 10-80? 10-80 In seguimento di un veicolo sospetto E dici 10? 10-10 Sparatorio Conflitto a fuoco Conflitto a fuoco Ma se tipo Delle persone sparassero Sparassero tra di loro Lei cosa dice? Eh, dico C'è una sparatoria in corso Presso il civico Che acquistiamo Tra due sospetti Cioè, tra due persone Io sento un colpo d'arma da fuoco In giro A caso Mentre pattuglia Cosa ti segnala A radio a lei? Segnalo Un colpo d'arma da fuoco Presso il civico In cui Penso Diciamo Ci sia Il sospetto Che ha aperto il fuoco Le faccio una domanda Sì, sta effettuando Un 10-55 Ma vede più soggetti a bordo Del veicolo Ovvero, quattro soggetti Come si comporta? Beh, innanzitutto Cerco di capire più o meno Le loro intenzioni Innanzitutto vedo se sono mascherati O se intravedo delle armi da fuoco Diciamo Nella loro portata E poi Chiamo subito Un 10-60 Visto che Probabilmente In due Non si riusciranno A gestire mai Quattro persone E Al fermo Ovviamente Faccio scendere solo E unicamente Il guidatore Faccio accomodare Dietro la volante E faccio Le dovute procedure Eseguo le dovute procedure Ok Un'altra domanda che faccio Sì Allora No, non ho domande Non mi viene la domanda Ciao, Teo No, non ho domande No, non ho io Mi può ringrazi 10 volte bianco Devo dire 10 volte bianco Sì Bianco 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 Sì, più veloce Ah, più veloce Bianco 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 Cosa beve la mucca? Il lo No, è l'acqua Salvato l'uco Cioè, salvato all'ultimo Avevo Mi sa dire Quanti stati sono in America In stati in America? Sì 52 se non sbaglio Quanti? Eh, no, aspetta Oddio Eh, mi mette a C Non la so Anche lui Con la geografia Bocciata Eh, no, no Con la geografia Non è il mio forte Ecco Quanti sono? Come? Quanti sono A lei? Ah, io ho detto 52 Ma non ne sono Cioè, credo Siano sbagliati E le stelline Sulla bandiera americana Quante sono? Beh, se sapessi Le stelline Che stanno Sulla bandiera americana Saprei anche Il numero esatto Degli stati Ah, quindi sa Che le stelline Ci entrano Con gli stati Degli americani Esatto Comunque sono 51 Le stati Degli americana Perché 50 Quanti? 50 Più le Hawaii Per un Sbagliato di uvo Perfetto Infatti le stelle Sono 50 Non sono 51 Perché le Hawaii Sono Il 51esimo Stato dell'America È venuta la domanda Sì, mi dica Cosa Cosa cambia Tra uno stato D'arresto E uno stato Di fermo Uno stato Di fermo È In pratica Lo stato In cui si mette Una persona Ed è temporaneo Nel senso Che Magari Stato di fermo Solo per alcuni Accertamenti Invece Lo stato D'arresto È proprio Quando Si ha Un pregiudizio Per la quale Bisogna Portare La persona In centrale Per ulteriori Diciamo Accertamenti Quando il soggetto È in stato di fermo Ok Ha letto Il Miranda Oppure no In In stato di fermo Sì Oddio In stato di fermo No Non credo No 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 Andiamo avanti Sì Lei sta Facendo una gara Motociclistica Io Sì Ok E sta All'ultima curva E arriva all'ultimo Rettivio In fondo Vede il traguardo Supero il secondo In che posizione arriva? Se supero il secondo Divento Se supero il secondo Divento io secondo Ok Nel garage D'accentale Ci sta Un pino Ok Un pino Albero Sì Un pino Albero Sì Che pensava Il pino Il signore? Non so Il pino Può essere C'è un tronco Un grande tronco A questo tronco Sono attaccati Quattro rami A questi quattro rami Sono attaccati a sé Quattro ramoscelli Sì E questi quattro A ognuno di questi Quattro ramoscelli Ci sono quattro Ciliegie attaccate Quante ciliegie C'ha il pino? Allora Aspetti Ha detto Quattro Rami attaccati A un tronco E Questi quattro rami Hanno a loro volta Quattro Ramettini E su ogni ramettino È attaccato Quattro ciliegie Allora Sì Allora Aspetti Quattro Quattro Sedici E poi Sedici Per quattro Sessanta Quattro ciliegie Perfetto Vedo che la matematica La sa Ma in questo caso Non è serviva In quanto un pino Non fa ciliegie Vabbè Lei ha detto Un tronco Quindi un tronco Svite I pini con gli innesti Fanno le ciliegie Quindi Ma oltre al fatto In 2021 Lei ha detto Un tronco Eh appunto Nel 2021 Un tronco Era fatto Del pino Perché se lei C'è un albero C'è un pino Ha un grande tronco Sto pino Ok Che la sua volta Ha attaccato Eh Il pino Non ha ciliegie Signore Mi dispiace Può contare quanto vuole Bravo matematica Ma non le serviva qua Ah capisco Capisco Va bene Collega Qualche domanda No io ho finito Quello del bianco Sì Ok Eh oddio Io Vabbè No dai Quello dei pesci Mi dica tutto Quello dei pesci no Quello dei pesci no No Allora Sì Hai un acquario a casa Sì Dove ci sono circa Dieci pesci Eh madonna È un acquarione È un acquarione Il primo giorno Ne affogano quattro Ma i pesci non affogano Eh vabbè Hai visto tutti i collegati Sì Dove li porto? È in un ufficio a casa Qua su a piano Di sopra Va bene Perfetto Quindi? Il signore qua ha una domanda Se vuole farmela No no va bene Può andare Arrivederci Conoscere la uscita? Certo Perfetto Arrivederci Dove va? Dove va Calissa? Venga qui Arrivederci Signor Buona giornata Come è dato secondo voi? Così? Eh? Eh Sto prendendo la stazione I bandi Ok va bene Posso prendere io il prossimo? Arrivederci No Paura di te No No Paura buona Non ti preoccupare Smith Allora prenderlo io Vai 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 Oh bello Ciao Smith Eh ieri purtroppo Sero assente Mi può dare il peggio nuoto Tu sei? Ti ho retto a domenica Ci allontaniamo Perfetto Un po' di mare Grazie Ciao Aspetta venite qua Venite qua Come è andato secondo voi? Ma E' la A parte che non ci sono stata per La geografia Non la so Non la sa? No Bocciato Vabbè anche quello di prima Era bocciato in geografia Ma mi capire Eh Per me Se l'è capata Però Diciamo che Con i codici Ci dobbiamo un po' lavorare Che Nell'altro dipartimento Dove stava Avevano codici ben diversi Loro 11-10 Vuol dire Una sparatoria in costo Ma 11-10 Sì Perché io ho fatto La differenza Tra uno shop E su 11-10 Non la sapeva Quindi Su questo Però mi sembra Abbastanza sveglio In gamba Non ha molto raccontato Salve Stavo urlando Non ha molto raccontato Di serio Stavo credo No no E allora niente Cioè Ma quello di prima Ma assumilo Quindi l'ora Sì o no Sì ho voto di sì È bravo È carino Dai bravo Salve 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 Per me è un sì Però cercando Da lavorare Ma secondo me Quello lì Devi fare i corsi Comunque questo Mi sembra più Comunque questo qua Mi sembra meglio Di quello che vi prima Sì sì Quello sì Se abbiamo accettato Quello di prima Questo Sicuramente L'accettate Confermo Allora Quello di prima L'ha scelto Clarissa Sì sì Eh sì È della curva sud Vabbè dai Facciamo sto con voi Lei è? Oddio Allora io sono Alex Scott Non ti avvicinare a lui Che se no c'è caldo Cosa? Come si chiama? Non ti avvicinare a lui Che se no c'è caldo Scott Scott Ah è serenze in polizia? Sì E ho fatto il poliziotto In altre città Per quanti metti? Allora nella città scorsa L'ho fatto per un mese e mezzo All'incirca Qual è il suo grado Massimo raggiunto All'interno degli altri dipartimenti? Sergente Ci racconti un po' di lei? Allora io Sono arrivato in questa città Da una settimana e mezza All'incirca Per il semplice motivo che Nell'altra città Era diventato un po' troppo rischioso Rimanere Stavo rischiando la morte Per vari e vari motivi Che vagamente Ho preferito non ricordarmi E sono trasferito in questa città Con l'obiettivo di Ritornare a fare Il mio lavoro Anche perché Il lavoro che facevo Mi piaceva Molto Bene Bene Tre e dei suoi pareggi? Non saprei Solitamente non li decido io Tre e dei suoi pareggi? Forse Posso dirne uno Che sono Un po' troppo Come si può dire Timido a volte Allora Qual è la differenza tra un 10-10 e uno shot file? Allora Il 10-10 è un conflitto a fuoco Ovvero che Che Si viene chiamati A un certo A un punto Perché appunto C'è stato un conflitto a fuoco Dove vari agenti sono in pericolo E Le shot file è quando c'è già il fuoco aperto Cos'è il 10-80? Allora Il 10-80 è un seguimento Ovvero quando tu provi a fare un 10-55 Però il soggetto non si ferma Allora si chiama un 10-80 Che varie altre patuglie Si dirigono sul posto Insomma sulla posizione Continuamente aggiornata Del veicolo Ok Un'altra domanda Cosa sono i time code? Sono i codici radio Per velocizzare di più le comunicazioni radio Bene E Conosce l'inseguimento Che manovra riconosce Per fermare un'auto Durante l'inseguimento? La manovra pit E la manovra box Me ne spieghi Allora la manovra pit Si può Fare Sotto i 100 km orari E consiste nel Nostro Panale anteriore Sinistro-destro Colpire un lato Posteriore Del veicolo Che ci sta davanti Sempre sinistro-destro Per farla sbandare Così Dar Da Bloccarla Diciamo Facendola sbandare E successivamente Si può Eseguire la manovra box Dove si blocca il veicolo Per evitare che riporta La manovra Box Si può fare in qualsiasi Momento In qualsiasi luogo A che velocità? Si preferisce che non sia La manovra box Pit La manovra pit Si consiglia Non farla in città Per evitare Danni O comunque anche Di far male Ad altra gente Si consiglia Di farla sotto I 100 km orari E comunque Deve essere autorizzata Da un ufficiale In servizio Ok Se lei esegue Un 10 secondi E vede 3 suggesti All'interno Della vettura Esempio Vede 4 suggesti Come si comporta? Faccio scendere Solo Il pilota Del veicolo E Faccio stare All'interno Del veicolo Solo Cioè Gli altri Stanno venendo Scendo solo Il pilota Che mi fornirà La patente E tutto il resto Nel caso Non mi sento al sicuro Posso chiamare Una pattuglia di supporto Che ci Recherà La supposta C'è la domanda Quanti stati sono In America Quanti? Stati sono In America Allora Sparando Sì Adesso Aia C'è un 10 10 In corso Ok Può ripetere la domanda? Quanti stati Ci sono In America 50 Quante stelline Ci sono Sulla bandiera 50 Ok Io Ho finito Con Le domande Bene Lei? Collega? Mi racconti un pochino Di lei Voglio capire Come mai Questa Questa cosa Di entrare in polizia Allora Io In un'altra città Ero entrato All'interno Del capo della polizia Perché Mio padre Anch'esso Era All'interno Del capo della polizia Quindi già da piccolo Ero già Passavamo le serate Che mi spiegava Cosa faceva lavoro E quindi Mi ero già appassionato Del corpo della polizia Poi Ho avuto L'occasione Di poterne Entrare a far parte E mi sono appassionato Ancora di più Di quello che ero prima Per i vari motivi Mi sono trasferito E Ho deciso Comunque Di riprendere A fare il mio percorso Da poliziotto Ok Quindi comunque Possiamo dire che Come chiamo io Sei un figlio d'arte Sì Ok Se non capisci Cosa significa Figlio d'arte Te lo spiego Però vabbè Credo che si capisce Dimmi Oh Come che non c'è Che domande fai Io aiuto A caso E cosa dica a cazzo Cioè Mi ha chiesto D'arte una kill E tre punti Ne so forze E tre per altre Ma spero C'è anche nel discord Dei colloqui Bianco 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 Perché c'ho delle domande Per impostare Bianco 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 Ci sono delle domande Già lì Alcuno da fare Ah Allora Che c'è Ok E se ti mandato il link Manda E giù Alcuno Fai domande a caso Quello che ti viene Io non ho qua Io non ho capo Un altro bocchetto Non l'ho sentito Guarda Un attimino solo Lei è un acquario Dove ci sono all'incirca Dieci pesci Dove le vedo Il primo giorno Gliene affogano Quattro Il secondo giorno Ne compra E poi tu devi finire L'esito nella sezione sergenti Ok Dov'è la sezione sergenti Scusa Eh L'esito nel colloquio Ok A posto Diciotto Perché i pesci Non affogano Perfetto Ehm Ah forse sì Forse mi ricorda Poco Ok Allora Quindi tu sei Da dove provieni Più o meno Cioè Da piccolino O dall'altra città No Da piccolino Allora io sono nato A New York E adesso Vabbè A New York Ok Ah ok Quindi sei americano di nascita Perfetto Quindi se io ti chiedo In che stato ci troviamo al momento Tu mi sapresti rispondere America No Lo stato Delle Americhe Cioè Lo stato d'America In quale ci troviamo In quale ci troviamo In che stato sei? In che stato sei? In che stato sei? Lo Santos. Collega, rispondi. Dica la risposta. Ci troviamo in California. Quindi New York, dove si trova? In che stato si trova New York? New York? Sì, dove è nato lei? Negli Stati Uniti. Sì, ma in che stato? Negli Stati Uniti ci sono 50 stati. Ok. Lo Santos si trova in California. New York, dove si trova? Visto che ci sei nato. E chi se lo ricorda? Ero piccolo quando c'è stato stato. Ma... Vabbè. Mi sono trasferito due volte. Una poco finita, la quinta media e dopo la terza superiore. Vabbè, eh... Vabbè, eh... Vabbè, colleghi, vanno tornando a fare ancora? Niente? Quello è il Pinson, ma... No, non lo so. A posto, può andare allora, la città la conosce. Ok. Arrivederci. 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 No, adesso se ne pandi. Grazie mille, arrivederci. Buona giornata. Sono rimasti gli ultimi due. Com'è andata? Beh. Beh, non sapere in che stato si trova a New York, visto che c'è nato, è un po' failed. Te lo dico sinceramente. Negativo? Sì. Sì. Poi non ha spiegato niente di lui, praticamente, ha parlato solo della sua vita precedente. Diaman, sono rimasti due, ne vai a prendere. No, no, io basta, io devo andare ora. Mi to? Vado un po', sì. A posto. Torno stasera io, signori. Va bene, ora. Stasera. No, io stasera a me sa che non ci sto. Io ci sono. Va bene, stasera che qualcuno voglio fare come i colloqui, ci sono. Ci vediamo. Vabbè, ovvio. Allora, buon lavoro. Magari venitevi qualche altro sergente, solo vedere un attimo come sono gli altri. Allora, grazie. No, uno solo ne è rimasto. Chi? Il sergente maggiore. No, c'è, guarnieri qua. Tutto bene, guarnieri? Salve. Non abbiamo ancora iniziato. Eh? E poi c'è il banner da qualche parte, dove sta? Quale ma? Quale ma sta qua? Stava. Ma cazzo hai messo il banner, hai messo il banner. Ma dove lo devi essere? Ma dove sei messo il banner? No, è sotto, è sotto, ferma. Banno, dove stai accendendo i colloqui tu? Eh? Dove stai accendendo i colloqui? Eh? Eh, non ne ho idea, è un piaccato. Ah, vieni qua, ci sono gli uffici più, senti, vieni qui. Vieni qua, ci sono gli uffici più spazio, vieni qui. Ah, beh, sti che... Ah, lei è il banner. Sì, il sergente è il banner. Salve. Eh, ma vedi, sergente. Qui? Sì. Sono in questo dipartimento da due settimane. Lei da sei mesi, attenzione. È una roba che sta. Ma lei è durante un anno che sei ripartimentato tu. Eh, quasi, sì. Vabbè, però non ci sono. Non vuole una mano con i colloqui? Sì, ti lascio loro che io vado via. Ah, non vuoi. Ti aiutano un po' a fare qualche domanda anche loro. Tanto ne mancano due. Ma chi che sparano, non capisco? No, non ci sono. No, non ci sono. Boh. Di due. Vabbè, bel lavoro. Salve. Vabbè, io vado dalla maia. Eh, va bene, io scendo giù. Sì. Bryce, vederci. Se devi andare in centro, ti accompagno. No, credo che qua, così meno che si raccogliano altri colloqui da fare, li facciamo già qua. Ah, va bene. Mo' vediamo un po'. Se ci sono altri sergenti rimasti, non penso. Allora, se ne è andato, pure, ma ancora. Vediamo giù qualche ci sta. Se ne sono giuditi. Se ne sono giuditi. Aspetta. Non lo salvo? Eh? Non lo salvo male, che stai. Sento una voce. Oh, bello. Che, secondo, l'abbiamo fatto, sì. Oh, bello. Ci sono ancora gli ultimi da fare? Ma? Ma non c'era proprio il soggetto. Vai, allora devi giocare a dati, vai. No, no, io devo andare via a stacco a prescindere. Ma signore, che ne stava? Sono passato e non l'ho vista. Vai, 10. Andiamo. Ciao. Ciao, Maya. Ok. Gli scarti li ho lasciati qua giù da queste persone. Bom, ragazzi, io allora vi lascio qua. Vi ringrazio per essere qui con me. Vi ricordo di lasciare il follow, se avete ancora fatto. Punto schermativo. Comandi, vedere tutti i comandi. Punto schermativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Punto schermativo Discord per entrare nel mio Discord, ragazzi. Mi ringrazio per essere con me. Vi saluto e ci vediamo in una prossima live. Ciao. Adesso vi lascerà mezzogiorno, come sempre. Ciao. Ciao. Buona giornata, ciao. Buona giornata, ciao. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.